ciao benvenuti nel mio canale dolly fornelli oggi voglio fare una ricetta dolce dopo tanto salato un po di dolce ci vuole mi manca tanto la sicilia oggi voglio fare cannoli siciliani vediamo un attimino come farli un po di dolce 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 e 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 a e 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